Gentili telespettatori, buona giornata. Una notizia per tutti gli italiani residenti all'estero. C'è un progetto per i 6 milioni di connazionali all'estero per il Servizio Sanitario Nazionale. C'è una proposta di legge targata Fratelli d'Italia. Il Paese potrà recuperare risorse economiche preziose. Qual è questo progetto? Dare una tessera sanitaria agli italiani nel mondo residenti all'estero che versando un contributo annuale che ancora è in via di definizione, potrebbe essere 250 euro, 500, 1000 euro, non lo sappiamo ancora. Versando appunto questo contributo annuale tutti quelli iscritti all'Aire, anagrafe italiane residenti all'estero, potranno mantenere il diritto a un'assistenza sanitaria completa in patria. Lo prevede appunto una proposta di legge di Fratelli d'Italia depositata in Commissioni Affari Sociali alla Camera. Un traguardo straordinario raggiunto grazie a un lavoro di gruppo che ha visto la collaborazione tra il mondo politico e quello medico scientifico, scrive su Facebook il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, co-firmatario della PDL proposta di legge. Una rivoluzione sanitaria, conferma Giorgia Meloni, che con i fatti porta l'attenzione per gli italiani nel mondo dimenticati per decenni dalla sinistra, dice il deputato, membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera. Grazie a tutti e arrivederci a presto.